Il vero motivo della separazione accelerata Breatore e Gregoraci, svelato il vero motivo della separazione accelerata Perché Elisabetta Gregoraci e Flavio Breatore si sono lasciati alla vigilia di Natale? La separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Breatore è ormai ufficiale Ma perché i due si sono lasciati proprio alla vigilia di Natale, dopo che per mesi hanno nascosto la loro crisi matrimoniale? A svelare il motivo ci ha pensato il settimanale chi che, nell'ultimo numero in edicola, ha raccontato tutti i retroscena di questo addio Il motivo della separazione accelerata tra Breatore e la Gregoraci è presto detto, centra il figlio di 7 anni Nathan Falco L'imprenditore voleva trascorrere il Capodanno in Kenya, dove possiede un resort di lusso, con il bambino Elisabetta, invece, non era d'accordo, non era per niente intenzionata a passare i primi attimi del 2018 insieme ad un uomo che di fatto da tempo non era più suo marito Per questo la coppia ha deciso di intraprendere le vie legali, in modo tale da chiarire la situazione e procedere senza rancori o polemiche Flavio Breatore e il Capodanno insieme al figlio Nathan Falco L'accelerazione verso la separazione consensuale, arrivata nel periodo delle feste, ha un motivo specifico si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini Flavio, come ogni anno, voleva portare Nathan in Kenya, mentre Elisabetta, guardando la realtà dei fatti, non ne aveva nessuna voglia Così hanno pensato di attivarsi con una separazione ufficiale anche per stabilire la gestione del figlio fa sapere ancora chi E così, dopo la firma delle carte, Breatore è volato in Kenya con Nathan Mente la Gregoraci ha scelto di trascorrere il Capodanno a Miami, insieme ad un'amica Tra la showgirl calabrese e l'ex team manager della Formula 1 il divorzio definitivo arriverà il prossimo giugno Le parole di Elisabetta Gregoraci sulla separazione da Breatore Più forte è il carattere, più fragile è l'anima La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole soffrire più ha scritto su Instagram Elisabetta Gregoraci appena si è diffusa la notizia della separazione da Breatore Quest'ultimo ha preferito non rilasciare alcun commento o dichiarazione sulla questione Quest'ultimo ha preferito non rilasciare alcune